qui radio londra aldo dice 26 per uno dal corriere della sera cronache covid in coda davanti alla messa dei poveri multati per assembramento dalla redazione online vietati gli assembramenti le restrizioni non fanno sconti e anche le persone che stanno in coda per un pasto caldo alla messa dei poveri se creano assembramento rischiano una sanzione così è successo a genova in via pre nel cuore del centro storico cittadino chi si è trovato in fila davanti al circolo che distribuisce pasti ai meno abbienti è stato multato dai vigili proprio per assembramento a raccontarlo è la stessa polizia locale in una nota aperte virgolette nel corso dei controlli nel centro storico per garantire il rispetto delle normative di prevenzione del covid si legge nel comunicato le pattuglie della polizia locale sono intervenute in via pre dove era in atto un assembramento in prossimità del circolo che distribuisce pasti ai meno abbienti chiuse virgolette diverse le persone sanzionate non solo per via della coda ma anche perché alcuni non portavano la mascherina gli agenti sono intervenuti dopo le numerose lamentele di residenti e comitati nella strada dove gli spacciatori si mischiano spesso a chi invece vuole ritirare qualcosa da mangiare aperte virgolette dopo le segnalazioni ha spiegato il comandante della polizia municipale gianluca giurato per diversi giorni siamo andati a sensibilizzare le persone dicendo loro di rispettare le norme anti covid ma nonostante tutto hanno continuato a non rispettare la legge e siamo dovuti intervenire chiuse virgolette gli agenti hanno sanzionato diverse persone uno di loro un senegalese è stato anche denunciato perché ha mentito dicendo di essere un minorenne portato all'ospedale pediatrico gaslini dalle radiografie emerso che era maggiorenne sempre in via pre sono state multate altre sei persone sempre per il mancato rispetto delle norme anti contagio sono stati anche gli stessi responsabili dell'associazione a rivolgersi alle forze dell'ordine aperte virgolette i vigili ci hanno sempre aiutato siamo stati anche noi a chiamarli sottolinea daniele marzano fondatore di veri amici e a chiedere aiuto durante la distribuzione dei pasti ma la fila spesso si interseca con la zona dello spaccio noi abbiamo messo i distanziamenti a terra forniamo le mascherine a chi le ha vecchie o a chi non ne ha proprio chiuse virgolette sulla vicenda è intervenuto don giacomo martino direttore di migrantes a genova aperte virgolette uno dei motti delle forze di polizia e di proteggere e servire ha ricordato la legge giusta va applicata guardando la situazione altrimenti diventa ingiusta in questo momento è necessario usare l'umanità e anche le associazioni se hanno bisogno di aiuto per gestire le emergenze devono chiedere aiuto le stesse istituzioni devono sporcarsi le mani con le associazioni le devono coinvolgere di più solo così si potrà superare un momento duro per tutti senza puntare il dito contro nessuno vi ho letto questo articolo perché la notizia mi è giunta dalla voce di diego fusaro io ho voluto approfondire perché ho bisogno di sapere qual è la mappa del mio territorio io vivo a 11 chilometri dal centro cittadino di genova questa non è più genova questa è la repubblica sociale di salò in centro storico per me c'è il comando della repubblica sociale di salò non sono stati multati a causa del contagio e non è stata divulgata la notizia a mezzo stampa per far sapere alla popolazione che vengono protetti dal contagio è stato fatto per intimidire chiunque anche lontanamente voglia pensare che qualcosa non va in tutta questa dittatura sanitaria osservazioni uno i cittadini hanno chiamato le forze dell'ordine infastiditi dalla povertà sotto i loro occhi l'associazione che distribuisce i pasti che ironia che ha la vita veri amici si chiamano hanno contribuito a far sì che venissero sanzionati dei nullatenenti e infine anche il parroco ci si è messo a perorare la causa del giusto controllo di questi stracciomi di questa plebe che muore di fame impesta a tutti ma perché a genova c'è un senegalese ma perché a genova abbiamo così tanti poveri che arrivano dall'africa perché li stanno deportando vendendoci questa cosa come assistenza e diritto umano li fanno entrare il nostro paese arrivano in questa disgraziata città che è morta economicamente già dal 2004 ripeto è morta economicamente dal 2004 non non venite a genova migranti non venite a genova ma genova non si chiama più perché la genova che conoscevo io e medaglia d'oro alla resistenza genova quella che conoscevo io alla parola d'ordine aldo dice 26 per 1 insorse in armi contro i nazifascisti e si liberò è tutto scritto è tutto scritto ponte monumentale e io vorrei che quel ponte crollasse sulla testa di questi signori di cui nome e cognome ho ben scandito in questo video devono rimanere a futura memoria i nomi cognomi di color che per intimidire tutti multarono dei nulla tenenti in coda per un pasto poiché quello che ho letto poiché quello che metto in questo video è terribile proverò ad aggiungere qualche cosa che vi faccia sorridere io dentro di me o l'energia di uno spezznaz corpo d'elite dell'armata rossa quelli che hanno distrutto l'isis quelli che ha messo le cose a posto in cecenia guerriero completo i più potenti di tutti o come mi piacerebbe che venissero a prendermi gli spezznaz in elicottero io adesso scrivo a vladimiro gli scrivo gli chiedo prima di tutto asilo politico secondo gli spiego che glielo chiedo perché sono discendente di immortale perché per vladimir putin i 600 mila imi che sono morti dentro ai lager per per lui sono immortali antifascisti e così mi piacerebbe tanto come sarebbe bello mi venissero a prendere gli spezznaz non ce n'è uno brutto sono uno più bello dell'altro sono degli strafighi tutti loro ti fanno la pasta al pesto e mentre fa la pasta al pesto ti assaltano un palazzo qui radio londra fine delle comunicazioni aldo dice 26 per 1